Adesso apriamo la nostra pagina di attualità, di stretta attualità, parliamo appunto di Covid e delle norme che con il Super Green Pass da domani entreranno in vigore. Filippa a te presentare il primo ospite. Sì, ci colleghiamo ora con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Nonché Presidente della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome, buonasera Presidente, grazie. Buonasera a voi, grazie a tutti. Buonasera, grazie per essere con noi. Dunque, da domani Super Green Pass, il Friuli è stata la prima Regione a entrare in zona gialla. Qual è intanto la situazione adesso e qual è la strategia anticontagio che ha adottato? Diciamo che adesso fortunatamente, e speriamo di non essere sconfessati nei prossimi giorni, sembra che la curva dei contagi si sia stabilizzata e secondo la nostra task force dovrebbe andare verso una discesa dei contagi e ovviamente di conseguenza delle ospedalizzazioni. Quello che notiamo è che c'è uno spostamento, diciamo, dell'ondata che sta andando verso Occidente. Sono stati fortemente colpiti i paesi dell'est Europa. Pensiamo a paesi limitrofi alla nostra regione, come Slovenia ed Austria, sono stati drammaticamente colpiti. Noi ovviamente di conseguenza abbiamo avuto molti contagi. Però se mi permette, devo dire che anche i vaccini hanno permesso di non vivere la situazione drammatica che invece hanno vissuto in Slovenia, per esempio, dove le ospedalizzazioni e le terapie intensive sono andati a numeri che oggettivamente sono estremamente preoccupanti. Presidente, questa settimana si è molto parlato del caso del portuale di Trieste che manifestava contro il Green Pass e che adesso è stato intubato a previa del Covid e si è, diciamo, pentito. Ma come mai questa, la sua area, come mai proprio il Friuli Venezia Giulia a Trieste come mai c'è questa, diciamo, percentuale di scetticismo e di reticenza rispetto al vaccino? Lei come se lo spiega? Quell'area poi in particolare, insomma, il Friuli, parte dell'Alto Adige. Sì, diciamo che anche nel centro Europa, così, è stata sempre un'area dove la partecipazione alle diverse campagne vaccinali, anche quelle non legate al Covid, non hanno mai avuto percentuali di adesioni altissime. Devo dire però che guardando i numeri, anche il Friuli Venezia Giulia, che ha due punti circa in meno rispetto alla media nazionale della copertura vaccinale, quindi della partecipazione dei cittadini alla campagna vaccinale, è ben più alta appunto la copertura rispetto ad altri paesi europei. Quindi noi continuiamo a lavorare per coinvolgere e convincere le persone a vaccinarsi. Questo è fondamentale perché i dati ormai sono incontrovertibili, non soltanto nel limitare il contagio, ma soprattutto nel limitare la malattia grave e quindi la saturazione degli ospedali. Il dramma di questa pandemia è proprio la saturazione delle strutture ospedaliere e la conseguenza non è semplicemente o solamente, tra virgolette ovviamente, per chi è contro il Covid, che si può aggravare ed essere in situazioni drammatiche, ma pensiamo a tutte le altre patologie che con gli ospedali pieni non trovano una risposta adeguata dai sistemi sanitari, quindi diventa veramente un'emergenza sanitaria tutto tondo purtroppo. Ecco, ma lei si è detto, se non sbaglio, contrario alle vaccinazioni obbligatorie, no? Oggi l'obbligo vaccinale in Europa però, come ha detto anche la signora von der Leyen, si sta avvicinando, qualcuno ci sta pensando, ci sta arrivando. Lei rimane sempre scettico, mi pare, sulla possibilità di applicazione innanzitutto. Sì, io penso che la vaccinazione obbligatoria e poi nella parte applicativa possa trovare molti problemi, io penso invece che l'Italia si sia mossa in modo intelligente, con il dovuto anticipo, utilizzando prima il Green Pass, oggi il Green Pass rafforzato, dove invece è più facilmente applicabile, coinvolge molto i cittadini nella partecipazione alla campagna vaccinale, ricordiamo, ho sentito i numeri che dicevate prima, insomma, che diceva anche Giannini prima, anche l'annuncio del Super Green Pass ha portato a una fascia di popolazione che ancora non si era vaccinata a prenotare il vaccino e a farsi somministrare il vaccino, io penso che sia la strada che sia stata più lungimirante rispetto ad altri paesi che sono stati fermi nei mesi pregressi. L'Italia invece si è mossa, penso, con intelligenza, anche con il buon senso dell'accompagnamento dei cittadini e con anche, devo dire, una situazione totalmente diversa rispetto allo scorso anno, perché, mi perdono di Fazio, ma noi, sento dire qualcuno, ci troviamo nella stessa situazione dell'altro anno, non è assolutamente vero. L'altro anno, io ricordo, la mia regione, esatto, era in zona arancione, i ristoranti erano chiusi, si poteva andare per asporto a prendere, cioè era una situazione totalmente diversa. Oggi viviamo, di fatto, una situazione dove possiamo svolgere, con le dovute attenzioni, sia ben chiaro, tutte le attività, ovviamente grazie al vaccino. Io guardavo i dati, e mi scusi se le rubo altri sconti, guardavo i dati, dello stesso giorno dello scorso anno avevamo circa lo stesso numero di contagi, ma avevamo più del doppio delle ospedalizzazioni, avevamo 640 in area medica, oggi siamo circa 290, avevamo più del doppio delle terapie intensive. Vuol dire che è cambiato totalmente il mondo, una situazione più gestibile e con tutte le attività che si possono svolgere. Il presidente Zaia, della regione Veneto, ha detto che le strutture di sanità pubblica eseguiranno tamponi solo esintomatici e non più a chi ha bisogno di Green Pass. Lei come valuta questa ipotesi, che insomma, in qualche modo, io trovo comprensibile? Noi da sempre operiamo in questo modo. Non abbiamo mai utilizzato le strutture pubbliche per fare i tamponi, diciamo, per ottenere Green Pass, perché le strutture pubbliche le impegniamo per fare i tracciamenti, per ovviamente andare a monitorare i sintomatici e cercare ovviamente di limitare il più possibile il diffondersi della pandemia. Per ottenere Green Pass ci si rivolge alle strutture private, quale per esempio le farmacie, dove svolgono i tamponi, ma pensare di fare entrambe le cose vorrebbe dire indebolire intanto in modo drammatico il sistema di prevenzione che serve a fare i tracciamenti e dall'altro quindi non garantire il diritto alla salute e quindi a quelle operazioni che da un anno e mezzo, ricordo, si permette, ringrazio moltissimo tutta la parte medica, infermieristica, gli operatori sociosanitari che stanno lavorando notte e giorno e guardi che le prevenzioni con la parte tamponi è un lavoro mastodontico che stanno facendo e forse è poco considerato perché adesso i vaccini sono i protagonisti, però chi fa i tamponi, chi chiama le persone, chi fa i tracciamenti, è un lavoro veramente 24 ore su 24 con uno sforzo enorme da parte degli operatori che ci tengo a ringraziare, hanno dimostrato che mettono davanti l'interesse di tutti e non lesinano sulle ore di lavoro. Tra poco con il professor Locatelli parleremo di vaccini pediatrici, lei farà vaccinare suo figlio? Io sì, io farò vaccinare mio figlio, ovviamente mi confronterò anche col pediatra, è quello che consiglio di fare a tutti i cittadini. Suo figlio che ha 7 anni, giusto? Ha 7 anni suo figlio, giusto? Esatto, è informatissimo, è vero? Sì, sì, no perché i miei ne hanno più di 12 e sono vaccinati tutti e due con doppia dose, no per dire, quindi insomma, ecco, volevo sapere se un bambino più piccolo qual era la sua importante opinione. No, no, poi guardi, poi mio figlio è anche un po' smatico, quindi non voglio rischiare che possa prendere il Covid e avere degli effetti, perché anche sui bambini, soprattutto magari se uno ha qualche patologia, come per esempio l'Arslam, io ho paura perché io voglio dire, qualcuno ha paura di fare il vaccino, dice, il bambino è piccolo, fare il vaccino, io mi domando, io ho più paura che contragga il Covid, quali sono gli effetti, che responsabilità mi ha? Ma certo, ma certo, poi lasciarli soli in ospedale, eventualmente senza poter essere assistiti dai genitori, insomma è un incubo. Sento un po', scusi se cambio discorso Presidente, ma è una cosa che mi è capitata anche con Zai all'altra volta, va bene che non ci sono due leghe, una di governo e una di opposizione, però, ma lei quando sente, non so, quello che ha detto Borghi in questi giorni, eccetera, c'è stata questa discussione diciamo molto animata, per non dire rissa, fra Invernizi e Golinetti, eccetera. Ecco, lei come si sente, diciamo? Si sente a disagio? C'è solo una lega, come dice Cerasa, cioè la sua e quella di Zaia che sta portando Salvini da quella parte? Cosa sta succedendo? Ma soprattutto lei, come si sente? No, ma non c'è dubbio che ci siano state e ci siano delle sensibilità diverse, soprattutto sul Green Pass. Devo dire che Salvini è riuscito a fare una sintesi, penso anche corretta, rispetto a magari a chi ritiene il Green Pass, uno strumento coercitivo. Io personalmente penso che sia uno strumento di libertà il Green Pass, perché oggi con questi strumenti appunto, pensi al Super Green Pass, che sono state le regioni a volerlo proporre al governo, oggi diamo la garanzia a tutte le attività economiche che anche, non in area gialla, ma anche in zona arancione, possono tenere aperte ovviamente con la platea dei vaccinati o di chi è guarito dalla malattia. Ma vuol dire che queste attività economiche massacrate lo scorso anno possono tenere aperte e hanno la garanzia di poterlo fare, possono prendere gli stagionali, possono fare gli ordinativi, possono avere una prospettiva. Non potevamo pensare di lasciare l'incertezza, una categoria economica. Tra l'altro, alle sue spalle c'è questa bellissima immagine del Friuli, che salutiamo con molto affetto, e la stazione sciistica, che è già saltata l'anno scorso, insomma sarebbe una tragedia. Lei per quest'anno ha previsto che si possano frequentare le piste e i campi da sci col Super Green Pass, giusto? Sì, ovviamente noi abbiamo utilizzato a livello nazionale queste regole, dove appunto anche in zona arancione col Super Green Pass si può accedere agli impianti sciistici. Noi le nostre previsioni, però ribadisco, spero non siano smentite perché il virus ci ha sorpreso sempre troppe volte in modo negativo, però secondo le nostre previsioni in Friulenza Giulia non dovrebbe arrivare in zona arancione. Ma anche se dovesse accadere, sappiano gli albergatori, i ristoratori, chi ha impianti da sci ed altro, che potranno tenere aperto. Penso che questa sia una garanzia che il pubblico, che le istituzioni dovevano garantire a chi ha pagato in modo drammatico dal punto di vista economico e lavorativo la pandemia. Grazie Presidente, le auguro una buona serata, buon lavoro e buon Natale. Grazie. A voi, grazie mille. Grazie Presidente.